Sono andato a cercare se c'è mai stato un allenatore a Milano esonerato dopo un derby Sembrerebbe una circostanza frequente In realtà è capitato nella storia della Serie A una volta sola Ed è capitato all'Inter nel 1970 Il derby si giocava anche allora alla quinta giornata E la partita prima l'Inter aveva perso 3-1 in casa Non contro il Liverpool ma contro il Cagliari di Gigi Riva Che era campione d'Italia in carica quindi siamo lì Siamo appunto negli anni 70 L'Inter non vive un gran momento L'allenatore è un paraguaiano che ha un cognome molto ingombrante per l'Inter Herrera, Eriberto Herrera Un allenatore che ha sfilato all'Inter di Elenio Herrera un clamoroso scudetto l'ultima giornata alle 67 E due anni dopo è arrivato all'Inter con un certo astio da parte di chi si ricordava di quel campionato Soprattutto in pochi mesi si è messo contro tutto lo spogliatoio Burnic, Facchetti, Mazzola, Mario Corso eccetera E ha fatto anche esclusioni eccellenti Ha iniziato a imporre nuovi giocatori Giocatori anche in ruoli particolari Insomma a un certo punto l'Inter lo spogliatoio decide che non ne può più E l'8 novembre 1970 Milan Inter finisce 3-0 Senza appello Herrera e Eriberto Viene esonerato Un allenatore particolare che aveva fama di essere un vero e proprio aguzzino Uno dei primi allenatori che ha imposto una preparazione atletica devastante per i calciatori dell'epoca La sua parola chiave era movimento Ovvero muovetevi, correte, dovete assolutamente essere preparatissimi atleticamente Il primo per esempio a imporre la frutta come cibo per recuperare energie dopo una partita Il primo a fare preparazioni massacranti Aveva anche uno stile di vita molto monastico Viveva da solo in un appartamento a Milano in via Giovanni da Procida Che per chi non è di Milano è in zona Corso Sempione Non lontano da San Siro E insomma andò via l'8 novembre 1970 Però voglio lasciarmi anche con una nota di speranza per i tifosi del Milan Perché il campionato 70-71 è stato l'unico campionato della storia della Serie A In cui a vincere lo scudetto fu proprio la squadra Una squadra che cambiò allenatore Perché al suo posto arrivò Giovanni Invernizzi Tra l'interno tecnico della primavera E l'Inter a sorpresa rimontando proprio il Milan Vinse uno scudetto memorabile L'anno dopo fece anche finale di Coppa Campioni Staremo a vedere Buonanotte Grazie a tutti